Collegati online, magaze.it Prima di far partire il carro la tradizione prevede una serie di fasi come l'uscita dei legnami, la collocazione delle ruote e in particolare il sabato di buon mattino si svolge la cosiddetta morditura degli assi del timone un assemblaggio di fondamentale importanza visto che ha a che fare con il timone una delle parti più essenziali del carro ma andiamo a conoscerla meglio In che cosa consiste questa morditura? Serve a collegare la struttura portante centrale con la struttura precaria che è il timone che viene montato e smontato sia stamattina che domani mattina Che funzione ha? Serve per sterzare il carro, visto che non ha ruote e sei momenti serve per scarrozzare il carro a destra e a sinistra La stiratura della corda prevede una tecnica, un procedimento particolare oppure no? Innanzitutto la corda è di canapa, fibra naturale che poi alla fine, un'ora prima della partenza del carro, viene bagnata con acqua questo fa sì che la struttura della corda diventi molto molto più resistente molto più tirata e rigida rispetto a una semplice legatura asciutta La morditura degli assi è appena terminata le corde sono ben legate, l'assemblaggio è completo adesso il carro è pronto per la benedizione e per la scinnuta Collegati online Magaze.it